Ciao, sono Claudia Negri, candidata per il Movimento 5 Stelle alla Regione Lombardia. Ieri abbiamo assistito ad un suppruso bello e buono. Allora, l'articolo 1 della Costituzione ci dice che l'Italia è una Repubblica democratica. All'articolo 21 invece ci dice che c'è la libertà di stampa, cioè tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, la scritta o ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure. La legge stabilisce provvedimenti atti a prevenire e reprimere le violazioni. Io non ho ancora sentito scuse da parte di nessuna delle istituzioni. È stata aggredita Gaia Bozza, giornalista di Fanpage, che era al comizio del PD di Napoli a protestare, a cercare di capire più che a protestare, come mai De Luca sia stato indagato per corruzione. Perché sappiamo esistere a Napoli un gioco sui rifiuti illeciti. Chiamiamolo gioco perché non posso esporre un altro concetto. Non esiste che ci sia violazione dell'articolo 21 della libertà di stampa. E poi ci si viene a dire che non siamo in dittatura. Guardate che possiamo cambiare tutti il mondo italiano al 4 di marzo. Basta volerlo, altrimenti ne siamo complici. Ricordiamocelo. Ciao, buona giornata.